Siamo a Sorrento, in località La Solaria, una zona meravigliosa adiacente all'area marina costituente il sito archeologico denominato Bagni della Regina Giovanna. C'è un tratto di spiaggia notoriamente frequentato da nudisti. Arriva una segnalazione ai carabinieri della locale stazione. Uno dei bagnanti è armato di accendino di tantissima carta, sta piccando fuoco nella macchia, correte. Molti, infatti, i punti della fittissima estesa macchia mediterranea, a ridosso della sottostante fascia rocciosa balneare a cui l'uomo aveva dato fuoco. Il caos, bagnanti, turisti e anche persone sulle barche che si gettono in acqua per raggiungere la costa e così spegnere i diversi inneschi che quell'uomo ha creato. Tanti cittadini eroici che riescono a domare le fiamme evitando una catastrofe. I carabinieri arrivano in pochi minuti e bloccano l'uomo mentre era ancora sulla scogliera. I militari perquisiscono il suo zainetto e un sessantenne di lettere, già noto alle forze dell'ordine con precedenti specifici e sequestrano un accendino, una bomboletta di gas per ricarica e dieci pacchi di fazorettini di carta. Il sessantenne è stato arrestato ed ora in attesa di giudizio. Dovrà rispondere all'incendio doloso di macchia mediterranea.